Allora ragazzi come avevo detto ieri ho sentito in diretta la notizia che aveva dato Gianni su Messi all'Inter, niente io ho sentito quel mio amico che risiede a Barcellona e comunque conosce molte dinamiche della società blaugrana, lui mi ha detto che non c'è nulla di vero, che è solo un'invenzione giornalistica al momento perché comunque al Barcellona non hanno nessuna intenzione di cedere Messi anzi, probabilmente seguiranno le linee guida di Messi anche per la prossima squadra perché Messi comunque è un totem a Barcellona, un giocatore gioca al Barcellona e rimane al Barcellona e roba varia se Messi vuole, quindi Messi è l'anima di quella squadra lì, quindi ad oggi non c'è nulla di vero, non c'è nessuna trattativa e non ci sono le condizioni per cui Messi vada via dal Barcellona. Io sai questa voce qua a qualcuno farà comodo metterla in giro, non so per quale motivo però io da fonte comunque abbastanza vicina al Barcellona, che è la stessa fonte che mi disse di Arthur quando sembrava che tutto fosse andato a piedi in area e invece lui mi confermava il fatto che Arthur doveva solo convincersi di accettare la Juventus per il fatto che il Barcellona lo avesse scaricato per una questione puramente economica più che altro perché l'affare Arthur Piani c'è stato, le basi di quell'affare sono state puramente economiche e poi tecnicamente vedremo quale delle squadre avrà più giovamento ma Piani-CiArthur è stata una manovra comunque puramente basata sulla prosvalenza ma cosa che credo sia abbastanza chiara a tutti. Comunque la notizia è che sta storia di Messi verso l'Inter è inventata di sana pianta in questo momento. Un saluto ragazzi. C'è posso fate? Grazie